ragazzi in questi minuti proprio poc'anzi le testate hanno dato la notizia la notizia della morte del pilota svizzero de pasquier che ricordiamo ieri in un gravissimo incidente al mugello era stato trasportato in ospedale e ci ha lasciati poc'anzi noi siamo tutti quanti vicini alla famiglia al padre che ha corso all'ospedale di firenze ci lascia un prospetto uno svizzero un prospetto molto forte stiamo vicini tutti quanti alla famiglia ma dalle immagini come detto nel video di ieri che le speranze danno poco hanno tentato di tutto ma ma hanno dato la notizia per morte celebrale del grandissimo pilota bravissimo io l'ho visto tante volte perché io sto pure in svizzera ci stringiamo tutti alla famiglia alla tutta la categoria dei piloti di moto gp moto 2 moto 3 tutti quanti perché rischiano la vita in questo sport ragazzi una notizia proprio che ci mi lasciano abbrevedito questo io la devo dare perché è il mio canale un canale sportivo non vorrei dare mai queste notizie ma purtroppo ci ha lasciati riposa in pace e veglia per tutti noi un angelo abbiamo avremo tutti quanti un angelo in più riposa in pace